Benvenuti ragazzi alla seconda parte di Marluigi Superstar Saga più scagnozzi di Bowser Remake per 3DS Ok, continuiamo l'avventura oggi 31 ottobre, ovvero Halloween E vabbè A Yura Che succede con questa gru qua? Ah ok, si è presa Luigi Peccato però Ah, ha scambiato Luigi per un bagaglio, un bel pacco Visto che è nata così Luigi può far la vedetta intanto Eh zi Però non mi sembra che sia molto contento eh Del suo ruolo Vabbè Avvisaci se trovi qualche nemico Luigi Oh, belle notizie Fra poco oltrepasseremo il regno dei funghi per entrare in quello di Fagiolandia Bene, bene Oh no Ci prepariamo quindi per l'atterraggio? Ehi Che cosa hai da lamentarti? Vediamo Che ha da lamentarsi Luigi? Ehi Che cos'è? Vediamo Ah La strega che ignarda Pena sconfiggi la strega che ignarda Non vi basteranno 100.000 anni Tu sei la latra che ha rubato la voce della principessa feccia Certamente Bene, torno subito a Fagiolandia Preparare il prossimo piano Non ho tempo per perdere con gentaglia come voi Soghigno Ti esercito Ehi Aspetta Io sono l'allievo della strega che ignarda Mi chiamo Soghigno E sono rendevolmente felice Scidate la caccia per recuperare la voce della principessa feccia C'è da farli La dolce voce di feccia sarà presto il caccio sui maccheroni cipiani della strega che ignarda E questo scontro sarà la ciliegina sulla torta di caccia La ciliegina finale Ok, la vocetta è troppo stridulata Un po' Mi fa seccare la gola Quindi mi limiterò A quello che posso E adesso il vostro torno Ecco qua Let's go Ok Saltiamoci sopra come sempre Ok Ok Cerchiamo di schivare un po' meglio della scorsa volta Ok, attenzione ai segnali Adesso ce li spiegherà Boucher Ok Dai Oh, meglio, meglio Meglio della scorsa volta Voi due Vorreste sapere Come schivare i suoi attacchi Certo, per stavolta Prima di sfarrare l'attacco Ho osservato il bene così C'è quel brutto ceffo Continuo a blatterare? Mi disgustivo ne? Orrore Quando vedete il rosso Mario, tocca a te Gli attacchi dei mostri Danno sempre un indizio Bisognerebbe gli occhi aperti Disgusto In verde Ok 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 Allora Altra volta Dai, forza E adesso Prendi questo In rosso Quindi A e B Me lo ricordo ancora questo attacco Eh già Solo che è un po' più lento Di quanto me lo ricordavo E quindi Per quello magari Ero abituato a Non so Agli attacchi veloci Va bene Non importa Adesso perderà l'elmetto Temporaneamente però E noi facciamo come sempre Però L'esperienza qui non viene data Perché è un tutorial E niente Vabbè Meglio Anzi Meglio Somma Mica tanto Però beh Ci si accontenta No Ecco Dai Forza Ole Tiè Beccati questo Et voilà Et voilà Et le Beccati anche questo E anche quest'altra Scarpata In testa Ok Pestugna go go Arrare Ah Fate di queste cose Vieni a prendermi Che ti ridi Vorrei tanto sapere io Certamente Subito Non ho tempo Di perdere Con voi Disicostevoli Prendete questa Che fa? Ops Ci sta distruggendo Il tartaplano Brutte notizie Bowser Mi spiace Ma Adesso Eh purtroppo Guardate Bisogna inventarsi qualcosa Anzi no Troppo tardi È esploso E vabbè Vediamo un po' adesso Che succede Ah ok Ok Mette ore verdi e rosse Fatalità Eh Che saremmo noi Mario e Luigi Confine con il regno di Fasolandia Va bene Va bene Dove Mario Mario Eccolo lì E adesso Ok L'ha saltato in testa Vabbè E l'ha sotterrato E l'ha sotterrato Però Luigi comunque si è liberato Ok Vabbè dai Agnura Fa niente dai Agnura Salvatina Ma si dai Ok E fatto Viene E si prosegue Bene bene Ehm Ok Scusate Cadaveri Kupa Non era mia intenzione Insomma Spiacicarvi Ok Questi sono i fratelli frontiere Me li ricordo anche questi Ok Va bene Però Voglio Un po' di Insomma Ecco Esatto Spiegazioni Perché non me lo ricordo molto bene Il gioco in sé Mi ricordo dei fratelli Ma Ma di questo mica tanto Vabbè Ok 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 Luigi Adesso Proviamo a fare Un po' di salti Per rinfrescarci Le basi Ok Proviamo a saltare insieme Ok Bene E adesso Dobbiamo fare Esatto Il salto della frontiera Bene Primo livello Di difficoltà Ovviamente Poi man mano ragazzi Ce ne saranno altri 4 O altri 3 Non mi ricordo bene Oddio Devo stare attento A quando parlo Però eh Magari lo dicevo A fine video A fine Scusate Come si dice A livello Ecco A fine sfida Ecco Eh vabbè Ma ciao Devo stare zitto Luigi non può più sbagliare Ora Ok Per fortuna ragazzi Adesso non c'è punteggio Non c'è nulla Nessuna valutazione Quindi Menomale Ok Ci troveremo nel regno di Fagiolandia D'accordo E c'era anche lo stemma Lì a sinistra Quindi Ecco Aspettate un attimo Ah siamo i primi Veramente A passare la frontiera Davvero Quindi nessuno è bravo a saltare Come noi Ci sta dicendo Va bene Ok Possiamo anche toccare L'icona sulla mappa Eh sul touch screen Scusate Ci dice Va bene Scegli un tubo Eh C'è solo quello Vabbè Tubo a varpa Che però registriamo Tanto così Per avere scorgiatoie In futuro Ok Fungo Voilà Altri funghi? Sì Altri funghi Ok E adesso Uh nemici Nemici Ok A differenza di Paper Jambrose Ragazzi Qua non metterò nessuna Scheda Insomma Però vi faccio vedere Intanto il primo nemico Trovato A Fagiolandia O quasi No anzi A Fagiolandia appunto Vabbè Primo nemico Di Fagiolandia Calabrotto Esatto Forte come Forte come un gumba Ecco Praticamente Solo che Una mosca O simile Vabbè Finché sono così corte Sapete cosa ragazzi Ve le lascio Poi Quando diventeranno Un po' più lunghe Le lotte Va Cercheremo anche Di tagliare Ma per adesso Ok Solo due di esperienza Vabbè Era da solo Ci stavo in effetti Ok E lì c'è Bowser Che è incastrato In un cannone Ok Otteniamo perfino Tre monete Saltandoci sopra Quindi Vabbè Ok Ti aiuterei volentieri Ma non saprei Dove iniziare Sai com'è E questo è Magastro Il grande re Del piano strale Che prende In giro Per i fondelli Bowser Però Anche se è intrappolato Non mi sembra giusto Insomma Ha diritto anche lui Di rispetto Ok Gli diamo 117 monete Povero me Tanto sudate Queste 17 monete Perché le 100 Sono di Master Todd Se ben vi ricordate Ecco E che imbroglione Però Ci costringe In pratica A prendere Altre Monete Fagiolo Vabbè Che si ottengono Nei blocchi Oppure sconfiggendo I nemici Alla maniera Classica Alle maniere Anzi classiche Vabbè Quindi Scontri Che tengo Fino a livello 3 Ok Ho deciso Dai Fino a livello 3 Di ognuno Tengo le lotte Va Tanto perché Questo giro ragazzi Va così Va Mi sento generoso Mi sento generoso Ok 3 monete E 2 Di esperienza Ci stanno giusti Giusti Proprio Va bene Allora Facciamo in pv Si dai E 3 Ok Allora Vediamo un po' Adesso Monete Ah ok Devono essere Colpite più volte Va bene E Voilà Adesso Anche qua Andiamo Poi Ok Quante ne abbiamo Finora 28 Beh Micca tante Sono poche Veramente poche E zi E zi Sono poche Vabbè Ma noi cercheremo comunque di Prenderne più che possiamo In questa parte 2 Anche se comunque Potrebbe essere un po' difficile 8 Eh si perché Più che altro richiede tempo Sono difficilotto Sono mica tanto Anche io Che cosa dico Dai Vabbè Sono fuso Ormai si sa Eh già E perché c'è freddo Perché c'è caldo Che mi dà la testa Ormai Vabbè Non so più che inventare di scuse Diciamo solo che sono io Punto e basta Fatto così Ok Bene Luigi Bravo Bravo Sali di livello No non sale Ma peccato Ma veramente Ok Ti hanno fatto di male Ci sono altri Di quei Cosi No Nada di nada Ma dai Ma perché Io volevo Fargli farli Bello Ma perché No Sono caduto Vabbè Non volevo andare proprio No No Possiamo stare E qua ci sono Invece Vediamo che ci sono Ho Il Sergente Astro Il Sergente Astro E il Generale Astro Di prima Ok Oggetto confermato Verde Eh no È rosso Non verde Si richiede ulteriore Contatto visivo E che stanno vedendo Due cose diverse Eh già Quello è il problema Raga Eh già Ok Si fanno le facce Buffe Vicenda Si mimano La vicenda Somma Ok Ok Cambio Voglio L'autografo Adesso Va bene Magari una volta Quando abbiamo Tempo E una penna Lo faremo Ok Ok Va bene Allora Siamo tutti D'accordo D'accordo Va bene Allora Salto doppio Oh Ci insegnano I salti Ok Non ripetere Ok Ai Bene E adesso Spin Va bene Non ripetere Grazie Olè Jump Spin Ai Olè Pierfietto Ok Possono anche essere toccati Va bene Sul touchscreen D'accordo So che fra poco Ragazzi Ne avremo un casino Di Insomma Icone Qui nella parte inferiore Del Schermo superiore Vedrete dopo Vedrete 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 Ecco così Tipo Vedete Per adesso Per adesso sono solo tre Ma dopo diventano Cinque Sette Nove Undici Tipo Quei che sono Non so neanche quante sono Le icone Per le mosse In doppio Rabbie Mosse fratelli Chiamiamole Va Così Per convenzione E per non Insomma Doverci Spagliare troppo Troppe volte Ok Ce l'abbiamo fatta Abbiamo raggiunto Questa Asta qua E niente Siamo i più fighi E già Ok Ok E nulla Va bene Allora Adesso io vorrei Un attimino Però Far fare livello Anche a Luigi Ok Ah cambiano Automaticamente Posizione Ho visto Guarda Questo chi ha invece Il Cannone Bill Ehi no Il cannone Bill Pure Vabbè D'accordo Oh Che bello I pallottoli Bill Adesso mi danno Una moneta Se colpiti Non so se accadeva Anche i super star saga Ma non credo Vabbè Noi pensiamo soltanto A frantumarli Con i pestoni Forse frantumarli Mica tanto Però dai Ci si prova Ole Anche Queste Specie di Zanzare Moschini Tipo Go Cerchiamo di Ucciderli E adesso Luigi ti converrà A fare livello 3 Perché dai È solo quello Che aspetto Io Vabbè Comunque Schivato Vabbè Pazienza Una moneta In meno Ok Un fungo E vabbè Sai che roba Finché è un fungo Il regalo Non è che mi Interessa molto Sai Ok Va bene Et voilà Non è morto Ma come Vabbè Con questo colpo Sì Con questo Sì che muore E 10 D'esperienza Ok Gli mancava un punto D'esperienza Quindi Vabbè Allora Te che ti diamo Luigi Forse velocità Ok 15 Bene Bene Let's go Eh già E si va Infatti Ops Excuse me Ok Sempre più Esperienza Bene Bene Mi fa molto Piacere Vedere Ste cose Allora A Ok E Mamma mia Bisogna che mi regoli Un attimino qua Eh Di trovare Un appoggio Qualcosa Perché Se no La visuale Poi Se ne va A quel paese Eh già Però Vabbè Non ho idea Di cosa Metterci Veramente Allora Ultima lote Poi ragazzi Ciao ciao E vi rimando Alla terza parte Ok Bene Bene E con questo Siamo giunti ragazzi Alla fine Del secondo Capitolo Bene Bene E no Secondo episodio Scusatemi Vabbè Comunque Se la parte vi è piaciuta Mettete un bel like Commentate E iscrivetevi Al mio canale Bene Sono giorni 92 Ci si becca Quindi Al terzo episodio Di mercoledì Ovvero domani Che sarebbe Ogni Santi Ok Bye bye E alla prossima Puntata Allora